diventerò la regina del college vota vivienne sarò io la regina vota diana non è neanche una possibilità lo vedremo ehi raga date un'occhiata al mio nuovo tatuaggio wow è stupendo allora votatemi non ve ne pentirete i tatuaggi sono così importanti ok ragazzi un nuovo tatuaggio vi piace wow aspetta ma è finto beh votatemi comunque per niente i tatuaggi di diana sono reali davvero lo sapevo esilarante cosa sta imbrogliando vivienne porta subito ai compiti io ma perché ti meriti una f per aver imbrogliato cosa non stavo copiando è colpa di diana ecco fatto ha ingannato tutti diana questo lo vuoi tu ora tutti penseranno che stai salvando cuccioli la tua reputazione di cattiva ragazza finirà ma che succede qui alla fine diana è una brava ragazza sono stata incastrata sei stata tua a fare questo come se avessi tempo per quello che cos'hai lì niente anche io sono un amante degli animali ma cavolo che adorabile vero greg mi fa ridere anche tu mi piaci diana cosa il re del college sta flirtando con quella anche io avverterò con lui anche meglio di diana ciao greg mi tengo in forma vivienne fuori di testa andiamo ciao diana oh vivienne vada per me ho i biscotti andy pensa mi piacciono troppo i biscotti scusa ehi vieni ho dei foglietti se voti per me ehi ragazzi ho dei foglietti così si vince un'elezione ma questo l'ho fatto passiamo al prossimo sì ho già finito il tuo test non dimenticare di votarmi sì ti ascolto non c'è spazio qui metterò la borsa sulla scrivania di vivian vai avanti sì ma cosa questa borsa non è mia è troppo pesante non ce la faccio a toglierla c'è del metallo pesante e va bene salve mi serve un pacchino questo deve andarsene in un lampo e una nuova scrivania cosa? il mio banco sarà ancora meglio attenzione pavimento bagnato non ti lascerò cadere ciao vivian ma che stai facendo? pensa per te voti per me andate subito a posto la lezione sta per cominciare allora come fare a non morire nel deserto? che cosa ha detto? non ho capito niente lo stomaco di qualcuno brontola è il mio sto morendo di fame io ho una mela prego una mela anch'io ho una mela vuole? no grazie è insopportabile ecco prende il mio per favore un panino divino ti merito proprio una a più grazie la stupida porta non si chiude ciao vuoi venire al ballo con me? oh proprio quello che mi serve grazie cosa? ciao Greg vieni ho bisogno che mi aiuti con tutti i compiti ma certo e questo è un invito al ballo vuoi venirci con me? wow fumetti le adoro e io finalmente hanno quello che si meritano Viv questo è per te ma non è fresco riprenditelo Diana non pensarci nemmeno Vivian qual è la risposta? è la B grazie amica ricreazione mi vendicherò si pentiranno di quello che mi hanno fatto Succo? ma di chi è? Diana hai rovinato i miei compiti ma no non sono stata io la nostra amicizia finisce qui ma questo è il libro che cercavo Vivian avrà una bella sorpresa cosa mi era sembrato? ok sarà una nuova moda ma che succede? ha funzionato Ashley vuoi venire al ballo con me? cosa? ci va con un'altra? oh no che idiota Diana non piangere tieni un fazzoletto andrà tutto bene dai grazie sei una vera amica ecco mettiti questo non fare domande e la regina del college è Vivian ma strano ci sono due vincitrici l'altra regina è Diana lo sapevo la cerimonia della corona aspettate di nuovo i tuoi trucchi ecco una corona per le regine buone e cattive stammi lontana cosa? Greg ha falsificato i voti te ne pentirai 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 te ne pentirai